Era il negozio, quando tu passavi lì davanti, ti si spalancava il cuore. Era tutto perfetto e nello stesso tempo tutto estremamente disinvolto e libero. E era diventato poco poco il nostro sogno. A Maddalena, che corre e che mescola mondi e ha la sua vita tutta ad un fiato. Ho capito che dovevo farcela, nessuno pensava che avrei potuto farcela, ma sono andata avanti. Agli incontri, che se li sai vedere, ti portano lontano. Se fai un lavoro con passione, fa parte della tua vita.